Si è aperto ed è stato subito rinviato al prossimo 15 febbraio il processo civile sul coro della casa dello studente nella notte del 6 aprile 2009 che causò il decesso di 8 ragazzi promosso da alcune parti civili contro la Regione Abruzza e l'Azienda per il diritto agli studi universitari dell'Aquila che chiedono una somma di 6 milioni di euro. Un rinvio disposto dal giudice anorario del Tribunale dell'Aquila Antonella Camilli per controllare la regolare costituzione delle parti, in particolare quelle telematiche. Una prima udienza che come spiega l'avvocato delle parti civili rappresenta un nuovo inizio del processo penale legato sempre al crollo dell'edificio di via 20 Settembre. Questo processo civile prende le sue radici nel processo penale, quindi in tutti i faldoni, in tutti gli atti, le perizie tecniche che erano state già fatte nel processo penale per il crollo della casa dello studente per acclarare la responsabilità delle morti e dei ragazzi sopravvissuti durante il crollo del 6 aprile 2009. E su ritardi legati al deposito delle motivazioni della sentenza di conferma delle condanne dei responsabili penali L'avvocato della vigna vuole vederci chiaro. Un mio appello al primo presidente della Cassazione, al presidente Canzio, perché non abbiamo fino ad oggi, quindi nove mesi dopo, non abbiamo ancora il deposito della sentenza di condanna degli imputati per il crollo della casa dello studente. Abbiamo una sentenza, un dispositivo, ma non abbiamo ancora le motivazioni. E siccome questa sentenza penale fa stato anche in questa civile, per noi è importante e fondamentale per ricostruire tutte le responsabilità civili accanto a quelle penali per il crollo della casa dello studente. Per i parenti delle vittime, inoltre, il nuovo procedimento potrebbe essere utile per far emergere ulteriori responsabilità nel crollo che spezzò la vita ad otto giovani che erano giunti all'Aquila per studiare e costruirsi un futuro. Nel penale sono stati condannati soltanto i tecnici. Noi riteniamo che delle responsabilità enormi le abbia la regione Abruzzo, che è la proprietaria di questo stabile, l'Adso, che l'ha avuto incomodato d'uso. Quindi entrambi gli enti avevano l'obbligo, credo anche la più istituzionale, di provvedere alla messa in sicurezza, di controllare lo stato della casa dello studente, di mettere in mano l'electricità. D'altro canto c'era uno studio da Bruce Engineering che parlava chiaro e che è rimasto chiuso nei cassetti. Ampiamente prevista dalle previsioni, anche nel capoluogo è arrivata una leggera nevicata che sin dalla scorsa notte ha interessato l'intero territorio comunale. Questa è la situazione registrata questa mattina, con traffico regolare sulle principali arterie stradali, cittadine e pochi disagi per la circolazione dei mezzi pubblici. Situazione sotto controllo, tanto da non spingere il Comune a chiudere le scuole, dove si è svolta regolarmente l'attività didattica. Nulla a che vedere insomma con le precipitazioni abbondanti che hanno riguardato le altre province abruzzesi, dove sono stati registrati accumuli anche di oltre mezzo metro. Diversa invece la situazione segnalata in alcuni comuni dell'Interland, come Barisciano o Pizzoli, dove già nella giornata di ieri erano state registrate nevicate più copiose. Qualche disagio invece in alcune piastre del progetto case, con tubature ghiacciate e caldaie in blocco che hanno mandato in tilt i telefoni della società che gestisce la manutenzione delle New Town, presi d'assalto dagli inquilini. Sorridono invece gli operatori del Gran Sasso, albergatori e scuole sci, grazie alle nevicate di questi giorni e dal lavoro degli operatori del centro turistico, potrebbero essere aperti a breve gli impianti di risalita. Si attende solo un rallentamento della morsa del maltempo, per aprire una stagione già contrassegnata comunque da un pesante ritardo rispetto alle altre stazioni sciistiche abruzzesi.